Neymar è annunciato in buona condizione con uno dei protagonisti di questo match. Va con i pugni il portiere. Ci prova Barcelo! E c'è il gol! Palla in rete! Al primo tiro, alla prima occasione hanno trovato il gol. Sfrutta la deviazione del portiere, al posto giusto e nel momento giusto. Difesa troppo morbida qui se questo gol del Rerno. Dovevano marcarlo meglio qui a Luigi. E qui c'è grande senso della posizione. Hanno spiccato il fiuto del gol facendosi trovare pronto.